Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti ragazzi Abbiamo un nuovo video di GameCell900 In cui vi mostreremo un nuovo gioco E lo proveremo per voi Hello together Ciao a tutti ragazzi Vabbè continuiamo Avete visto che bella intro Power Power Ozza con i diamanti Abbiamo trovato I diamanti Quattro diamanti Quattro diamanti Sei Attenzionissima Ce l'abbiamo su Quindi devo andare su Vediamo se si vede Si va bene si vede Ecco se lo tengo così Intanto ragazzi ho scoperto Guardando per internet Che non avete mai delle registrazioni Molto belle Perché non esiste Un root per il Galaxy Mini S2 Non esiste Si che esiste l'ho trovato io Mi dispiace ragazzi Si che esiste E allora io non l'ho trovato Comunque ho pronto Vabbè Sì ma va troppo scatti Vabbè non parliamo durante un video E ma chi se ne frega dobbiamo parlare di qualcosa Che tra l'altro non è partito Si invece guarda Beh t'avrei sparato Ma io sono ancora vivo Ecco il bugoso Bug 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 Adesso dobbiamo scoprire Capire come si chiamerà questa Questa nuova puntata Che pisa però sta salita Scusa non ho messo mica l'ascensore Vabbè insieme vaci E' notte It's my get it Intanto c'è anche qualcuno fuori casa Sentite i Maiale I gingi Siamo Volume Stai non c'è la salita sfera energetica in mezzo alle palle Sì E' un pollo rosso intanto Sentite i vesti del pollo rosso Adesso usciamo per vedere cos'era Ah la battaglia Uno zombie Nell'acqua c'è uno zombie Andiamo a sfottarlo Maiale Chiude la porta Polly Chiudi La porta Il nostro cactus buggoso sta salendo Buggosamente Perchè c'ho la casa ricircolata da polli One shot one kill One shot one kill Vabbè adesso andiamo a sfottarlo Nell'acqua c'è uno zombie Ma che bello Io Io Andiamo su No è uscito Perché Voi non avreste vitto niente Noi non avete vitto niente Noi non avete vitto niente Non avete vitto niente Tanto qua non esce niente Non cresce Non cresce neanche perchè Guardate che schifo La nostra casa da dietro Ma come Altro che pisellonia Da dietro è proprio una Da davanti invece si che pisellonia Mi ricordate pisellonia Nel precedente video Andatevevo a vedere Pisellonia Un altro pollo Un po' Un po' La casa infestata dai polli Si chiama questa Oh andando è cresciuto Un nostro Un'altra pentagione Oh con la spada Si rompe da oggi Perché noi siamo bossarosi Questo Ma nessuno di questi Deve avere i binzilli Arangione I binzilli arangione O mafiosa Ieni Io non ho capito perchè Si è fatto la farm di cactus Inutile Perché pensavo che crescesse Ma guarda Ma più di tre non crescono No ma va Crescono fino all'infinito e oltre Ok non crescono Anzi sono tutti buggati Sapete cosa voglio fare io? Yeah avete capito bene Io Sembra qualcosa No si è rotto Devi rompere il cubo sotto Se no si rompono Roppi il cubo sotto Roppi il cubetto sotto Spacca il cubo No quello Su quello sotto E' caduto uno Uno ne è perso invece Yeah mi facevo male da un casino ragazzi Se avevi una bella corazza non ti facevi una beata Massa Fa pure rima Yeah se avevi una bella corazza non ti facevi una massa Yeah le rime qua volano Yeah raga Yeah bella fra Ehm Si io Ma che cavolo è? E' super sbaggatoso Eeeh abbiamo uscito il cactus così buggoso che è di 4 cubi E' casciuto naturalmente No No Va bene sprechiamo un po' le Le nostre attrezzi O il piccone esatto E' il piccone Non ci spaga col piccone in legno Ma noi Abbiamo una corazza perché non facciamo una mazza Invece Ieeh raga bella Ieeh frate Ioooo Iò 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 Io Iò Io 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 Lo prendi, lo porti e lo strizzi e lo fai col gusto. Ti sintonizzi. Tanto di affinità la vostra spada. Capiamo l'angolo di angolazione. Angolo di angolazione. Ma così non vedo niente io. Zitto, guarda qua. Dai che devi giocare. È troppo a rilento. Non vedo i tasti. Guardate quanto è alto il nostro cactus. Sembra un'altra cosa. È entrato Pisellonia. Esatto, pallone. Pallone. Papà. Papà. Papà Romino. Papà. Guardate, ora vedrete la tecnica di teletrasporto. 3, 2, fai fermo. 3, 2, 1. Poi. Pling. Ok, abbiamo visto. Perché siamo strapotenti noi. Che tecnica allora ragazzi. Questa tecnica in Minecraft si acquisisce dopo un tot che si gioca. avendo trovato sei diamanti e avendo molto poco ferro. Si funziona solo in questo angolo della mappa. Esatto. E spero che vi sia... Il video vi sia piaciuto. Dai, finiamolo qua tanto. Ne facciamo un altro. No, continuo. No. Spero che... Andiamo a prendere un altro. Ho già anche il nome del video. Tipo... Teletrasporto e Super Cactus. Perché facciamo sempre i titoli doppi? Perché succedono sempre tante cose nei nostri video. Bug e piselloni, ma che... No, è piselloni e bug. Perché succedono troppe cose nei nostri video. Facciamo troppi video. Andiamo a prendere i diamanti. Yuppie. Nel prossimo video prendiamo i diamanti. Quindi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Qui da GameSendon7000. E ciao a tutti ragazzi da M.E.C. Adesso andiamo a prendere i diamanti. Ciao ragazzi. Dura troppo... Troppo tanto. Dai, vabbè. Dai, vai prendere. Perché dobbiamo far rissa con loro che ci ascoltano? È troppo poco 730. Dai, su. Tanto ne facciamo subito un altro. Che palle ragazzi. Ciao ragazzi. Nel prossimo video. Che brutta roba. Sì, che palle io me ne strizzo le palle per colpa vostra. Se fate dei youtuber, fate lì. Da soli. Copia brutta. Esatto. Perché poi scoppiano le rise e strizzano le palle. È bellissimo. E fate... Sparti chiappe. Dai, suonate avanti. Ciao a tutti ragazzi. Oh ragazzi, abbiamo trovato Irobrain in Minecraft Pocket Edition. Sai che se lo tieni così non si vede, ecco. Ecco appunto. Però così non sembra Irobrain. Sì, sembra Irobrain lo stesso. Vabbè, è questo. Visto, non ho le armature. Quindi si spacca le gambe quando cade. E a tutti ragazzi nel prossimo video.